Lunedì 23 ottobre, il sole sorge alle 7.39 e tramonta le 18.17. La luna si leva alle 11 e cala alle 20.46. La fase è la luna nuova. Giovanni da Capestrano nacque nel 1386 da un barone tedesco e madre abruzzese. Il studente a Perugia si laureò e divenne ottimo giurista, tanto che Ladislao lo fece governatore della città di Durazzo. Caduto prigioniero decise di farsi francescano, diventando amico di San Bernardino e difendendolo quando, a causa della devozione del nome di Gesù, venne accusato d'eresia. Anche egli così prese come emblema il monogramma bernardiniano di Cristo. Il Papa lo inviò poi suo legato in Austria, in Baviera e in Polonia, dove si allargava sempre più la piaga degli Ussiti. In Terra Santa promosse l'unione degli armeni con Roma. Il Santo aveva 70 anni quando si trovò nella battaglia di Belgrado, investita dai turchi. Per 11 giorni e 11 notti non abbandonò mai il campo. Un favore sospirato a valore dimezzato.